Da questo profilo stratigrafico è evidente lo strato sommitale che è costituito dalla nevicata di ieri notte che è stata caratterizzata anche da vento quindi lastroncini con una certa coesione e poi un orizzonte intermedio caratterizzato da sabbia del deserto che sicuramente costituisce un piano di discontinuità rispetto agli strati sommitali il riscaldamento del fine settimana ha assistato il manto nevoso e il rigelo notturno delle ultime ore ha consolidato il tutto Il bollettino valanghe esprime il grado di pericolo su delle macro aree omogenee sta poi al singolo sci alpinista valutare la fattibilità di un itinerario in funzione delle indicazioni contenute nel bollettino della sua esperienza e quindi le sue capacità e dei rischi oggettivi che andrà ad incontrare durante l'uscita Grazie a tutti